Musica Oh, buongiorno e benvenuti al Cicclicat. Ecco, ecco, ora ho un microfono, perciò posso dire buongiorno e benvenuti al TG di SOS Mallate. Come avrete capito, questa è una puntata un po' particolare. Oggi siamo qui per festeggiare con voi l'estate e per ringraziare i volontari di SOS Mallate che sfidano le alte temperature e il sole coccente, pronti come ogni giorno dell'anno a prestare soccorso alla cittadinanza. In questo periodo molti di loro sono impegnati in alcune località turistiche nelle Marche e in Sardegna per attività di supporto al soccorso. Oggi vogliamo portare un po' di questo mare ai nostri fantastici volontari e a tutti gli amici di SOS Mallate. Oggi vogliamo augurare a tutti, ma proprio a tutti, un buon Ferragosto. Alla prossima! Oggi vogliamo augurare a tutti, ma proprio a tutti.